Pronti per le nostre novità? Una radio ancora più viva e fresca Il sito radiogold.it con tante rubriche nuove e la consuetà attenzionale news E senza dimenticare i social e la web tv con tante nuove idee Siamo sempre con voi e ancora di più dal 24 settembre Grazie a tutti